Ora io non so se è meglio non averla avuto un padre o averla avuto come quello del famoso attore a cui poi abbiamo nel monologo dedicato un capitolo. Ora, il padre di Luca era un personaggio un po' sopra le righe, era un ingegnere, era un pianista straordinario, era un campione di tuffi, un cantante da pietro, cioè un padre così, o l'ammazzi oppure ti ammazza lui. Allora immaginate, siamo in pieni anni sessanta. No, 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 questo è troppo finito, troppo finito, ho una cosa un po' più, capito? Senato, se le accende, sarei a scaccia. Questo è troppo rock, capito? Perché siamo in Italia, l'Italietta, l'Italietta, capito? Siamo i frattugi si, siamo le frattugi. E' un'altra del boom economico, dove un ingegnere potrà costruirci tante e sentirci un dio. Allora, questo padre diceva sempre, noi siamo i barbareschi, siamo belli, siamo forti, siamo sani, viva noi, diceva sempre, viva noi, perché Luca, a don'epoca era piccolo, ma, che dici, viva noi, dai, viva noi, dai, viva noi, dai, viva più forte, dai, papà, c'è gente, che cazzo mettere i cammini della gente, questi qua, tutti stronzi, dai, papà, come tu, oppure, che ne so, in montagna, sulla neve, no, il papà di Luca, entrava nella cameretta di Luca, con dove c'erano le sue amichette, mi svegliava dicendo, sveglia, 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 siamo le montagniere, siamo le parti famiglie, tutti a sciare stamattina, E' una donna fantastica, avanti i bambini, piegarsi sulla sinistra con le gambe, piegarsi a te, Luca, dietro, spazzanere, che pensava, cazzo, papà, cadi, li mortacci tu, cadi, oppure, che ne so, al mare, al tramonto, no, che uno voleva viverlo in silenzio, prustianamente, serenamente, arriva il padre che fa, cazzo, che giornata al Tecnicolor! Insomma, paura del silenzio, perché a un certo punto Luca, con più 18 anni, dice al padre, ma tu, papà, nel culo, te lo sei mai fatto mettere? Pare che il padre ci abbia avuto un'ischia mia! Cosa dici? No, dico, papà, tu nel culo, te lo sei mai fatto mettere? Io sì, siamo diversi! Applausi! 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 Sous-titrage ST' 501 ...